Allora la balla è che abbiamo aumentato dopo sei anni che gli stipendi della pubblica, dei pubblici... Ma non vi ho visti i poliziotti, sono in piazza tutti i giorni! Scusi, dopo le spiego anche a lei cosa penso di lei, no? Sì, sì. Cioè perché io credo che se lei abita fuori deve munirsi di un allarme, guardi a casa mia... Ce l'ha un allarme in casa! Ce l'ha un allarme in casa! Mi ha preso un giardino! No, guardi, se... guardi, io abito fuori come... È impossibile. Vabbè, facciate voi! Fate finire! Siete... Oh, madonna! Se ci avete consumato quest'Italia, noi stiamo cercando di metterla a posto. Poi, per quanto riguarda i dati del Ministero dell'Interno, gli omicidi sono diminuiti del 10%. I bonsetti sono aumentati! I furti in casa sono aumentati! No, non è vero! I furti in casa sono aumentati! Tu gridi e basta! Questo è il Ministero dell'Interno! Allora, vediamo cosa ha detto là sui conti! I furti in casa sono aumentati! I furti in casa sono aumentati! E' un'ottima pandemia! Ha capito? Invece del Rottweiler... Metta un allai! Non lo capisce! Non lo capisce! Non lo capisce! Questi poveri delinquenti che vanno giù a derubare, è colpa sua che non ha l'alarme! Non l'ha capito! è colpa tua che tu gli dici di comprare la pistola io faccio passo una proposta di legge per diminuire i costi degli allarmi giusto, chi non ha l'allarme adesso è massacrato ma sei un'intelligente invece diamogli una berletta la tua democrazia è quella di non far parlare alla gente la democrazia è di usare un minimo di rispetto verso chi viene pestato da dei delinquenti questo è il mio concetto di democrazia di Brandi per questo